Oggi facciamo un secondo di pesce economico, buonissimo e molto salutare. Per prima cosa metti l'aglio nel bicchiere del frullatore. Aggiungi buccia di limone grattugiata e un vasetto di yogurt greco. Spremi il limone e versa il succo ottenuto nel bicchiere del frullatore. Frulla quindi il tutto. Trita finemente un po' di erba e cipollina e uniscila alla salsina lo yogurt. Trita un altro po' di erba e cipollina che userai per decorare il piatto. Cuoce i filetti di sgombro 5 minuti per lato tenendo il fornello ad un calore piuttosto alto. Dopo 5 minuti di cottura gira i filetti. Ricordati che le carni di sgombro vanno sempre ben cotte perché è una specie a forte rischio anisakis. Una volta cotti trasferisci i filetti di sgombro nei piatti. Versa quindi sopra il pesce la salsina preparata in precedenza. Decora con qualche pizzico di erba e cipollina e buon appetito!